Buon pomeriggio Daniela e buon pomeriggio a tutti, spero che mi sentiate e mi vediate e che non cada la linea. Assolutamente sì, allora Katiuscia, riprendo un attimo, per chi si fosse eventualmente collegato adesso state seguendo una poltrona in Clubhouse On Air, il format di interviste di Clubhouse Brera, il business club di Copernico che si trova a Milano. Do il benvenuto alla nostra seconda ospite che è Katiuscia Cardinali, grazie per aver accettato l'invito. Katiuscia ha iniziato il suo percorso a Roma per Michael Page nel 2003, occupandosi di posizioni di middle e top management nel settore industria e servizi. Poi nel 2005 si trasferisce nella sede centrale di Milano e cresce come manager nella divisione sales marketing di Michael Page specializzandosi in healthcare e industria, automotive e telco. Dopo tre anni ha seguito la start up della divisione risorse umane dedicata alla ricerca di professionisti nella funzione HR in diversi settori. Nel 2008 è stata anche a capo della divisione retail, quindi tutto il comparto moda, lusso, grande distribuzione. Oggi in Page Executive segue i mercati di beni di consumo e healthcare, oltre alla direzione delle risorse umane. Bene, direi che Katiuscia andiamo subito al punto che interessa moltissime persone da casa. Qual è lo scenario attuale del recruiting e quali paradigmi hai visto che stanno cambiando? Beh, sicuramente abbiamo visto che l'emergenza sanitaria, che poi in tempi molto rapidi è diventata un'emergenza economica di carattere mondiale, ha stravolto il nostro modo di essere, il nostro modo di fare, sia a livello personale che a livello professionale. Quindi questo ha impattato inevitabilmente il mondo del lavoro, come si diceva anche nell'intervento precedente. E noi che ci occupiamo esattamente del mondo del lavoro, quindi di recruiting, di figure professionali dai più junior alle figure più senior di top management attraverso il brand di Page Executive al quale io appartengo, siamo stati direttamente coinvolti. Il nostro business è stato fortemente impattato, quindi gli ultimi due mesi siamo stati anche noi travolti dall'emergenza personalmente, perché siamo tutti reclusi in casa in smart working, che di smart non ha tantissimo, ma mi sembra molto più hard working, fino ad un modo diverso di relazionarsi con i nostri clienti, con i nostri candidati, con il mondo del lavoro in generale. Quindi evidentemente il primo commento che mi viene da fare è che il recruiting in questo momento non rappresenta la priorità, non rappresenta una delle priorità principali di chi gestisce un'azienda, sia a livello di management che a livello di imprenditoria, ma rimangono comunque attive delle esigenze che magari possono essere in questo momento rallentate dalla situazione o posticipate. sta di fatto che noi ci stiamo reinventando e pensando anche un modo diverso di fare il recruiting. Evidentemente fare il recruiting vuol dire incontrare persone in un ordine di tempo abbastanza limitato, in un ambiente ben delimitato normalmente, e cercare di sfruttare il tempo che si ha a disposizione per conoscere al meglio una persona, sia dal punto di vista delle competenze professionali che dal punto di vista delle caratteristiche personali. lo si faceva, normalmente lo si fa con degli incontri di persona, questo oggi non è possibile. Quindi evidentemente siamo tutti noi coinvolti in un nuovo modo di fare selezione, che noi abbiamo appunto definito un full digital process, quindi evidentemente un modo di gestire la selezione che è completamente digitale, in cui ci si vede, ci si parla attraverso appunto una videocamera e dei microfoni, e in questo senso, come esattamente stiamo facendo noi, devono venire fuori delle capacità e delle caratteristiche diverse a ciò a cui siamo abituati. E devo dire che questa metodologia in realtà ci sta dando delle grandi soddisfazioni, perché comunque sono strumenti che anche prima eravamo abituati a utilizzare, ma ora lo stiamo facendo sempre di più, ma non soltanto in ambito lavorativo. Tutte le nostre relazioni oramai sono basate sullo strumento informatico, per cui questa nuova abitudine poi ce la porteremo dietro anche in futuro. È evidente che non tutti sono pronti, è evidente che magari la piccola e media impresa con magari gli imprenditori di provincia trova una certa resistenza al cambiamento, anche a questo tipo di cambiamento, ma stiamo vedendo che in realtà tutti si stanno attrezzando al meglio e stiamo ottenendo dei grandi risultati, quindi siamo riusciti a chiudere dei processi in maniera completamente virtuale. Siamo riusciti a proporre dei candidati e anche a chiudere l'assunzione. La selezione, sì, siamo arrivati alla fase finale, siamo arrivati alla fase di assunzione e in alcuni casi abbiamo anche l'ingresso in azienda che avviene in maniera virtuale, quindi con tutto l'onboarding, la formazione iniziale e tutto il periodo di inserimento che avviene in forma virtuale. Questo per i processi di selezione che si sono conclusi prima della crisi sanitaria, ma che poi hanno visto l'ingresso della risorsa in azienda esattamente nelle settimane che sono state coinvolte dal lockdown. Ecco, quali sono le esigenze delle aziende adesso, in questo momento, proprio contingentando quello che sta succedendo? Ma allora, ci sono delle esigenze di forte urgenza, sicuramente per i profili più operativi, quindi quelli che hanno appunto delle esperienze di lavorazione in fabbrica, per esempio di prodotti o settori particolari che sono particolarmente coinvolti nell'attività produttiva, quelle aziende e quei settori che non si sono mai fermati durante il lockdown. Quindi, per esempio, tutto il mondo della produzione alimentare in realtà ha subito uno stress molto importante, c'è stato un aumento della domanda da parte del mondo della grande distribuzione, il canale, diciamo, professionale, il cosiddetto B2B, si è bloccato ad esclusione delle immense aziendali, ma tutto ciò che è il consumo in casa e quindi il canale della grande distribuzione ha visto un aumento della domanda molto importante, addirittura si parla di un più 30% per i beni alimentari nel mese di marzo, ahimè sui primi mesi, le prime due settimane di aprile è stato in realtà registrato di nuovo un calo della domanda, per cui l'industria alimentare ha dovuto rafforzare la propria capacità produttiva facendo anche i conti con il distanziamento all'interno delle fabbriche, quindi esigenze dicotomiche, da un lato aumentare la produzione, magari aumentare anche le linee produttive e dall'altro mantenere gli operatori distanziati e da questo punto di vista abbiamo visto degli esempi di eccellenza dell'imprenditoria italiana nel settore alimentare che sono anche intervenuti con delle azioni di welfare a vantaggio del personale lavorativo impiegato in fabbrica e non solo, anche per tutto il personale della logistica piuttosto che dei trasporti e anche delle cooperative coinvolte, tutta questa popolazione di lavoratori ha avuto anche degli incrementi salariali, ci sono degli esempi virtuosi come in Giovanni Rana piuttosto che nell'azienda Mutti abbiamo visto degli incrementi anche del 25% sulla retribuzione piuttosto che iniziative di welfare ulteriori come possono essere per esempio le assicurazioni sanitarie a copertura di eventuali rischi di contagio da Covid-19. Quindi i settori in questo momento che vedi stanno comunque continuando a cercare figure e ad assumere quali sono? Non è soltanto l'alimentare, in realtà tutto il mondo sanitario come sappiamo bene è fortemente coinvolto in un'attività frenetica con dei ritmi di lavoro molto importanti e quindi parliamo sia di personale medico che paramedico e con tutti i servizi connessi al mondo ospedaliere sanitario perché parliamo evidentemente di chi in prima linea è esposto ma c'è anche chi lavora nelle retrovie e quindi parliamo di tutti i servizi legati alla sanificazione, alle pulizie, al trasporto di materiale infettivo quindi tutto ciò che è connesso all'indotto dell'attività sanitaria è fortemente coinvolto con picchi di lavoro e anche picchi di richiesta di personale. Conseguentemente parliamo del mondo farmaceutico che è facile a dirsi è direttamente coinvolto in questa emergenza sanitaria per la ricerca sul vaccino ma anche per la ricerca sulle cure e sulle medicine che possono alleviare i sintomi dell'infezione da covid piuttosto che tutto il mondo legato ai dispositivi medici da quelli elettronici a quelli in monouso così come tutti i dispositivi di produzione individuale quindi vedi i guanti, i mascherini che sono appunto di monouso che poi ci troveremo tra l'altro costretti ad utilizzare da qui in avanti quindi non soltanto in questa intensa fase sanitaria ma anche nella cosiddetta e tanto attesa fase 2 visto che sarà abbastanza chiaro che dovremo girare con mascherini, guanti. A luglio-agosto sarà un piacere immagino. Esatto, l'importante è che ci evitiamo le paratie di plexiglass in spiaggia ma poi possiamo trovare tutte le soluzioni alternative. Esatto, buon senso, buon senso. Forse quella sarebbe la soluzione migliore alle volte. Esatto, quindi per tornare ai temi legati ai settori vorrei aggiungere ancora degli elementi importanti. Non dimentichiamo tutto il mondo della produzione di reagenti chimici e prodotti chimici che vengono poi utilizzati appunto come solventi disinfettanti per la produzione appunto di prodotti disinfettanti e non dimentichiamo poi tutto il mondo del commercio elettronico cioè tutto ciò che gira intorno ai processi dell'e-commerce sia da un punto di vista tecnologico quindi tecnologia, software e attrezzature tecnologiche ma anche tutto ciò che ha a che fare con la logistica, trasporti e supply chain. Quindi abbiamo visto che anche questi ambiti lavorativi sono stati fortemente impattati. Non dimentichiamoci chiaramente la tecnologia informatica che poi ha la base in termini di strumenti di comunicazione di ciò di cui stiamo parlando quindi la possibilità di lavorare in maniera virtuale così come parlando invece di ciò che avviene all'interno degli ambiti produttivi quindi tornando alla fabbrica tutto ciò che ha a che fare con l'automazione industriale spinta e quindi robotizzazione parlando non solo della situazione attuale ma di quello che poi ci aspetterà nel prossimo futuro quindi forse anticipo un po' una tua domanda cioè i misteri di domani la robotizzazione diventerà e anzi si rafforzerà come nuovo trend nel mercato del lavoro proprio per cercare di aumentare l'introduzione della macchina e quindi l'utilizzo della robotica in alternativa alla presenza umana che come abbiamo già detto dovrà essere diluita all'interno del contesto produttivo. Possiamo ancora pensare per esempio al mondo del design e dell'interior design quindi ci sarà esigenza di ridisegnare gli spazi lavorativi non soltanto in ufficio ma anche in fabbrica anche nei centri, nei grandi centri logistici e distributivi. Ieri parlavo con un imprenditore che mi ha nominato una sorta di neologismo parlando dei nuovi mestieri e mi ha parlato di un Covid manager mi sembra un'espressione un po' infelice però utilizzo questo aneddoto per dire che in realtà ci sarà bisogno di manager in grado di saper gestire i momenti di crisi e i momenti di post-crisi anche perché seguendo le indicazioni degli scienziati possiamo comprendere che non riusciremo a liberarci di questo virus molto facilmente che magari si potranno creare anche dei nuovi focolai in giro per l'Italia e per il mondo da qui in avanti per cui la capacità di intervenire in tempi rapidi con soluzioni innovative pensando anche alla sostenibilità e quindi a delle soluzioni che siano anche compatibili con le esigenze sociali e le esigenze salutistiche sarà fondamentale quindi fondamentalmente dovremmo sviluppare tutti la caratteristica del problem solver cioè problem solver è una task una codizio sine qua non ormai assolutamente infatti non escludiamo che ci possa essere sì magari ci potrebbe anche essere un boost nella richiesta di posizioni di temporary management proprio perché l'ingresso e l'innesto di figure senior capaci di intervenire in tempi rapidi con un bagaglio di esperienza molto ampio in un'esigenza temporale limitata potrebbe essere di grande aiuto in molte aziende che nella cosiddetta fase 2 potrebbero trovarsi in difficoltà certo e tu consiglieresti ad esempio una persona che vuole passare in questo momento da intraprendere una carriera come advisor, consulente da dipendente al passaggio consulente in questo momento storico è consigliabile oppure no? Ma diciamo che il passaggio dal ruolo da dipendente a libero professionista è un passaggio che molte volte si fa per scelta altre volte si fa per necessità lo abbiamo visto evidentemente è imparato dalle ultime crisi economiche che abbiamo attraversato che hanno colpito il mondo del lavoro quindi diventare un consulente piuttosto che un temporary manager può essere una soluzione alternativa interessante laddove poi la domanda potrebbe anche aumentare come abbiamo visto in situazioni critiche e legate a delle situazioni con caratteristiche specifiche in un determinato periodo Però devi avere delle competenze molto bisogna avere bisogna avere sicuramente le competenze specifiche richieste per il ruolo trasversali forse trasversali che non significa necessariamente conoscere quello dello specifico settore quello specifico quel mercato specifico ma vuol dire e può voler dire competenze trasversali quindi la capacità di innovare la capacità di essere digitali quindi tornando ai metodi di recruiting chi supera un processo di selezione in maniera completamente virtuale vuol dire che ha già dimostrato di saper essere convincente e di saper portare l'interlocutore dalla propria parte anche pur attraverso un video quindi anche questa è una prova interessante da superare le cosiddette soft skills sicuramente sommate alle hard skills dalle quali non si può prescindere faranno sicuramente la differenza sempre di più nel mercato del lavoro di domani noi ad esempio stavo pensando alle nuove figure anche nel campo del design dell'architettura del ridisegno degli spazi noi all'interno di Copernico abbiamo due team un team che è il setup e l'experience che si occupano proprio di il setup di disegnare lo spazio e l'experience poi di farlo vivere quindi in questo momento noi stiamo proprio disegnando dei protocolli dei manuali per partire domani con ben chiaro cosa dovremmo andare a fare e garantire la sicurezza e l'esperienza però anche alle persone perché non dimentichiamocelo dobbiamo cercare tutti di star bene comunque mi ricollego al discorso del digital perché c'è una domanda quanto è richiesta in questo momento nel prossimo futuro la figura del digital strategy e quali sono i settori in cui è più richiesta allora sicuramente il tema della digitalizzazione è sui nostri tavoli da un po' di tempo negli ultimi due anni abbiamo visto un'esplosione delle figure professionali quindi anche della richiesta di figure specializzate sui temi della digitalizzazione a partire dal mondo dell'industria per andare poi trasversalmente in tutti i settori anche quelli del mondo della moda del fashion piuttosto che nel mondo della produzione in tutti i campi questo trend probabilmente in questo specifico momento sta subendo un contraccolpo proprio perché si lavora per necessità in questo momento quindi le esigenze primarie sono quelle di andare a ricoprire quei ruoli fondamentali di cui non si può fare a meno quindi magari il capo della produzione piuttosto che il capo delle vendite piuttosto che l'area manager in quella determinata zona e ci si riorganizza anche sulla rete vendita per poter poi essere pronti nel momento in cui si potrà ripartire con un'attività commerciale sul territorio ciò nonostante io credo che nella cosiddetta fase 2 quindi non appena il business e i mercati potranno ripartire in maniera compiuta le esigenze di digitalizzazione diventeranno fondamentali e anzi diventerà anche un elemento di innovazione e di capacità di restare sul mercato quindi un elemento di competizione distintiva fondamentale perché abbiamo visto che le crisi restringono i mercati rendono tutto molto più complicato tutto molto competitivo e non ci dimentichiamo che le imprese italiane si dovranno confrontare sempre di più in un mercato globalizzato ma che nel frattempo ha esso stesso dovuto affrontare l'emergenza sanitaria e l'emergenza economica ma non dimentichiamo che questo sta avvenendo con tempi diversi quindi nei mercati asiatici tutto quasi tutto anche se ci sono delle recrudescenze importanti sembra essere ripartito questa settimana ho avuto una videoconference con i miei colleghi di Hong Kong che erano appunto seduti alle loro scrivenie in ufficio in open space pieni di pieni di persone quindi con le mascherine assolutamente quindi questo mi ha rincuorato perché addirittura a Hong Kong non hanno mai chiuso definitivamente ma hanno lavorato per buona parte in ogni caso in smart working la chiusura c'è stata a Singapore e c'è stata evidentemente in Cina però ci hanno rassicurato sul fatto che loro sono ripartiti e che da questa situazione si può assolutamente venire fuori vediamo invece che dall'altro capo del mondo quindi Stati Uniti e America del Sud la situazione è assolutamente molto molto difficile come lo è d'altronde nel nostro continente europeo questo per dire che gli elementi distintivi legati al sapere poter essere più competitivi sul mercato faranno la differenza quindi la digitalizzazione che non vuol dire soltanto e-commerce non vuol dire soltanto vendere attraverso appunto un mercato un mercato elettronico ma un'innovazione nei processi deve significare innovazione trasversale in tutti i processi quindi dalla digitalizzazione all'industry 4.0 all'interno del contesto produttivo fino appunto all'automatizzazione e digitalizzazione dei processi in ambito contabile e amministrativo per la gestione del risorso umane dall'elaborazione delle buste paga piuttosto che ai bilanci e così via per cui da questo punto di vista tutte le società di servizi e tutte le società di consulenza che operano in questo ambito secondo me vedranno un'importante richiesta in tal senso quindi ci sono diverse figure professionali che però c'è all'interno di diverse funzioni a cui tutte in questo momento richiesta un expertise diciamo nell'abito digital sì esatto allora noi devo dire che negli ultimi due anni abbiamo selezionato diverse figure di chief digital officer o chief innovation officer quindi delle figure manageriali senior addirittura al riporto diretto della direzione generale o dell'amministratore legato addirittura della proprietà in alcuni casi che necessariamente hanno dovuto lavorare in maniera trasversale in tutte le funzioni aziendali perché il rischio è quello di relegare i processi di digitalizzazione esclusivamente ad una funzione e questo purtroppo non ha alcun senso si avrebbe un dispendio di risorse sia economiche che umane un investimento importante magari nell'inserimento anche di una figura di questo tipo che ha dei livelli salariali anche molto importanti perché sono figure molto rare sul mercato e caratterizzate da una scarsa mobilità perché poi le aziende che hanno in casa questo tipo di figure fanno chiaramente di tutto per trattenerle per far sì che un inserimento di questo tipo funzioni ci deve essere una condivisione e una cultura e quindi un lavoro preparatorio che deve essere fatto alla base e quindi prima ancora dell'inserimento dell'arrivo della risorsa da parte di tutto il top management che poi ha a cascata innesta una nuova cultura digitale in azienda perché altrimenti il rischio è proprio che non funzioni non venga recepito ci deve essere l'intenzione la volontà di riuscire a cambiare il mindset un po' di tutti ma se io volessi diventare un chief innovation officer cosa devo fare per andare molto in concreto diciamo che come ci dicono i candidati e quando magari facciamo presente il fatto che non c'è quel tipo di esperienza ci viene risposto da qualche parte bisogna cominciare quindi è evidente che è importante magari nel proprio ruolo attuale nella propria azienda attuale cominciare a gestire dei progetti legati all'innovazione magari se è già presente un manager che ha la responsabilità specifica sull'innovazione magari lo si può affrontare lo si può affiancare con delle responsabilità specifiche su determinati progetti quindi far parte della cosiddetta task force di riferimento e questo tipo di esperienza si può inserire poi in un curriculum ed è possibile rivenderla per un ruolo che magari sarà quello di domani a tutto tondo legato alla responsabilità sulla digitalizzazione esatto anche secondo me è interessante come le persone nel momento in cui devono fare si attivano e riescono ad imparare da ciò che fanno non serve per forza sempre una formazione anzi la formazione è fondamentale però sul campo poi si imparano le cose assolutamente infatti un altro consiglio che mi sento di poter dare magari in un contesto organizzativo dove non è presente già una figura di questo tipo si può cercare di fare una sorta di opera di education rispetto ai propri colleghi manager diciamo di altre funzioni piuttosto che direttamente nei confronti del top management cercando di portare in casa una cultura più digitale e per far questo magari si può essere anche promotori di un'iniziativa di investimento anche attraverso una società esterna quindi magari ingaggiare una società di consulenza che può aiutare ne portare avanti i progetti di questo tipo in questo caso si diventa referenti del progetto e pionieri nell'innescare la scintilla che poi dopo magari si può trasferire altrove c'è un'altra domanda allora Maria Rosaria chiede ti chiede della Digital Health lei si occupa lei è farmacista sì ah ok ho capito perché poi ha scritto dice che lei ha un progetto ha in mente un progetto però non sa come sviluppare questo progetto e quindi voleva sapere se poteva chiederti un consiglio insomma certo assolutamente ne possiamo parlare magari poi ci possiamo scambiare attraverso te Daniela in contatti piuttosto che mi può raggiungere su LinkedIn adesso leggo leggo male il messaggio Daniela Daniela io non riesco non so perché non riesco ad aprire i nomi vabbè una domanda per te per chi come me da ha otto anni di esperienza lavorativa in un settore che adesso sta soffrendo tanto organizzazione di eventi come si può riuscire a fare un salto settoriale e reinventarsi questo è fondamentale gli americani utilizzano un'espressione che a mio avviso è molto rappresentativa si parla di cross fertilization che è appunto la possibilità di portare idee nuove e aria fresca in un settore completamente diverso quindi semplificando un cambio lavorativo da un settore all'altro cosa molto difficile noi noi ad Hunter ne sappiamo qualcosa perché molto spesso ci chiedono esattamente chi ha ricoperto lo stesso ruolo nello stesso settore ed è una visione che mi permetto di dire molto miope che non porta grande valore in realtà andare a reperire competenze da settori diversi è fondamentale su questo noi ad Hunter abbiamo un ruolo molto importante quindi io credo che per fare bene il nostro messaggio bisogna essere dei veri consulenti e quindi indirizzare i nostri clienti i manager e gli imprenditori che siano a buttare il cuore oltre all'ostacolo a investire su persone che hanno delle competenze trasversali che prescindono dalla conoscenza specifica del settore allora abbiamo tre domande sempre all'ultimo mannaggia mi spiace perché poi sono belle novanti allora recentemente mi è stato offerto un ruolo di temporali manager con responsabilità di sviluppo strategie commerciali clienti nuove azioni promozionali mi è parso un ruolo commerciale più che di temporali sbaglio? beh bisognerebbe approfondire forse in questo caso detto così è un po' difficile rispondere ma comunque molto spesso dietro al nome del dietro alla parola consulenza o comunque offrire un servizio c'è di fatto anche un'attività di business development ed potrebbe essere un modo per sviluppare una nuova competenza non ci vedo di male sì certo allora un'altra domanda qual è il consiglio che può dare la dottoressa Cardinale per inserirsi nuovamente nel mondo del lavoro in ambito HR senior in questo particolare momento storico beh sicuramente le funzioni legate alla direzione risorse umane nei periodi di crisi subiscono uno scossone importante questo lo abbiamo visto già nelle crisi economiche precedenti per cui anche qui capacità di reinventarsi magari cercando di trasferire un modo di fare gestione delle risorse umane alternativo che non è l'amministrazione del personale ma essere vicini alle persone essere più un business partner essere vicini al top management per trovare soluzioni innovative quindi i processi di digitalizzazione possono partire anche dalla funzione risorse umane piuttosto che pensare a progetti alternativi come il corporate social responsibility piuttosto che temi legati alla sostenibilità possono derivare anche da funzioni come quella delle risorse umane addirittura si parla della felicità in azienda come nuovo indice di performance aziendale quindi anche quella è un'attività un'idea che può che può nascere all'interno della funzione risorse umane pensando in maniera diversa lo so che sto rubando un minuto però volevo chiederti se in questo momento di stand by dice l'area per le aziende potrebbe essere utile per ottimizzare il tempo proporre ai propri dipendenti dei corsi di aggiornamento sulla sicurezza di primo soccorso o comunque dei corsi ci sono delle aziende in grado di effettuare questi corsi in modo digitale ed efficiente? Assolutamente tutte le società di consulenza e di formazione hanno spostato sul digitale la loro offerta quindi la risposta all'ultima domanda è sì e assolutamente sì è proprio importante in questo momento sfruttare il proprio tempo che si libera inevitabilmente dagli impegni lavorativi standard per investire sulla propria formazione assolutamente sì ed è ciò che consiglio a tutti visto che non vedo nessuno ancora di là inzi c'è Patrick che deve essere il prossimo speaker ma non si sono palesati gli altri ti faccio un'altra domanda hai citato il design ma non la moda è nostro un attimo una domanda sulla moda fai tranquilla scusa Patrick ti chiedo scusa però Katisha hai parlato del design di come adesso servono delle figure nuove nella moda capisce il perché non ho citato la moda perché ahimè è uno dei settori più fortemente impattati ma anche lì bisogna essere pronti come un po' in tutti gli ambiti alla ripartenza bisognerà pensare a un nuovo modo magari anche una nuova ciclicità delle collezioni perché abbiamo visto che con questa crisi sanitaria e con il lockdown praticamente sono saltate addirittura due collezioni in termini di vendite e le due future in termini di programmazione per cui bisognerà pensare a dei tempi diversi e ora bisognerà pensare a come riutilizzare riproporre sul mercato ciò che è invenduto tante sfide da affrontare tanto lavoro esatto va bene allora ti ringrazio tantissimo Katiuscia per lo scambio e per aver risposto alle domande io vi saluto vi ringrazio grazie Daniela a te grazie a te ciao Stefano ciao Patrick noi ci vediamo vabbè tanto noi ci sentiamo ma ci vediamo con tutti voi lunedì per parlare di un settore molto impattato in questo momento gli eventi di cui anche io faccio parte tra le altre cose per cui dalle 16 alle 17 parleremo con due esponenti del mondo eventistico degli scenari di cosa possiamo fare per ripartire ciao a tutti grazie ciao Daniela ciao